Per il ciclo leggere, raccontare e incontrarsi alla biblioteca forte guerriana di Pistoia è stato presentato il volume Pace e guerra in appennino nel Medioevo, il sorgere dei comuni rurali e la guerra della Sambuca tra Bologna e Pistoia, libro scritto da Renzo Zagnoni, ad introdurre il libro Elena Vannucchi, docente pistoiese e studiosa di storia civile toscana ed età medievale della prima età moderna. Il volume contiene due saggi accomunati da due elementi, il periodo storico, il Medioevo e l'ambito territoriale, l'appennino che a un tempo separe e unisce Pistoia e Bologna. Al centro della narrazione le vicende della cosiddetta guerra della Sambuca tra i comuni di Pistoia e Bologna, entrambi lanciati alla conquista delle alte valli appenniniche tra il XII e il XIII secolo. Abbiamo una data precisa, il termine è 1219, i bolognesi vogliono conquistare le alte valli e far coincidere il territorio del loro comune a quello del Vescovado, Pistoia invece vuole fare il contrario, cioè vuole conquistare le alte valli del versante adriatico. E questo provoca inevitabilmente lo scontro fra i due comuni ai fianchi dei quali si schierano rispettivamente i signori. Esempio, i conti Alberti di Prato e di Mangona stanno con Bologna, i signori di Stagno stanno invece con Pistoia. Quindi Bologna e Pistoia cercano anche degli appoggi locali fra i signori che sono quelli che fra l'altro sono gli unici che in qualche modo la guerra la sanno fare. E come si evolve? Allora la guerra ha vari momenti, il primo termine diciamo così è quello del 1215 quando i pleni potenziali pistoiesi e bolognesi si riuniscono nella pieve di Casio, nella pieve dei Santi Quirico Iulitta e stendono un vero e proprio trattato di pace. Nel quale fra l'altro due villaggi che sono Badi e Moscacchia rimangono pistoiesi, ma questa soluzione ai bolognesi non piace. Quindi dovranno passare altri quattro anni perché venga ripresa definitivamente la questione, Badi e Moscacchia passeranno ai bolognesi. E come era così importante il predominio sull'Appennino? Il controllo delle strade, nella grande strada che passava attraverso il valico della collina, passava poi attraverso l'ospitale dei Santi Bartolomeo e Antonino del Prattum Episcopi, su cui fra l'altro abbiamo scritto un libro poco tempo fa, quello che oggi è spedaletto. E' chiaro che soprattutto per i comuni cittadini è una strada di grandissima comunicazione. Nel 1298 i due comuni faranno addirittura un trattato per stabilire di mantenere libera e sicura dai predoni la strada. Quindi controllo del territorio e controllo della viabilità.